Mi chiedono se ci siamo lasciati, vero? Cattivo, alle 5 ho appena andato a un posto ma non mi dice dove mi vuole portare, quindi io non so come vestirmi né come truccarmi. Quindi dato che non me lo vuole dire, mi prepara direttamente per quello che dovremo fare dopo, cioè la nostra amica da un festino a casa sua con tutti i ragazzi con cui ci sono partita per il viaggio di modalità. Poi la cosa che mi fa strano è che abbiamo sempre iniziato scuola 2-5 agli anni insieme, invece quest'anno prenderemo tutti i strati diversi, tutti in un'università diversa e con indirizzi diversi. Ora, per la tua gioia, metterò questo gloss che ti fa tipo tutto il filler alle labbra, è nuovo. Aspetta, vediamo che funziona. Vuoi vedere? Non è iniziato. Brucia! Vuoi provare? Sì. Vedi un po'? Super approvato. Comunque, dato che non mi vuoi dire dove andiamo, almeno mi devi dire se l'outfit che ho pensato va bene, quindi ora me lo devi dire tu. Comandi, signor Silboss. Questo è l'outfit che ho scelto, semplice vestito nero, un po' rock in realtà, così. Lei va bene, sì? Ma è freddo, signor. Non sopporto più. Mi dice che così soffri. Ah, ma i capelli. Che mi devo portare? Una felpa. Sì. Mi sta ponendo in giro secondo me perché... Oh, non puoi dirmi di portare una felpa con 40 gradi all'ombra? Oh, devi portarti una felpa. Ti devi portarti una felpa. Grazie. Grazie.